Damiano Lenzi e Fabio Laconti sono loro due i vincitori della Vertical Trofeo Mario Ceschi, prova di Coppa del Mondo, che ha già visto trionfare proprio l'anzaschino. Il 34enne sui sentieri della Valle Bognanco ha dimostrato tutta la sua superiorità in questa disciplina. Ha fermato il cronometro in 38 minuti e 50 secondi. Alle spalle del portacolori della Sport Project VCO si è piazzato lo svizzero Werner Marti, che ha pagato un distacco superiore al minuto. Terzo gradino del podio, dietro di 1 minuto e 23 secondi, lo spagnolo per Roulan Estraleret. Ai piedi del podio invece il francese Benoit Gandolfi e quinto Junet Puig Catalano Doc. Tra le donne non ha avuto rivali la tenente degli alpini Fabio Laconti della team Autocogliati, 51 minuti e 6 secondi di suo tempo. Inarrivabile per la giapponese Yuri Yoshizumi, che ha chiuso la sua fatica con un distacco superiore al minuto e mezzo. Terzo gradino del podio per la bravissima Lara Centamori dello Chiclab Vigiezzo, fondista con un gran passo anche nella corsa in montagna. Poi le due catalane, Gabriella Lasal e Laila Gonfau-Selle. 1.100 metri il dislivello, circa 3,4 chilometri la lunghezza del percorso con partenza alle fonti ed arrivo all'Alperente. Domani mattina invece l'appuntamento con il piatto forte di queste tre giorni, la via Sky Race, 31 chilometri con dislivello di 2.600 metri. Il via alle 7.40 in gara, tanti fuori classe della disciplina. 1.100 metri il percorso con parte di queste tre giorni, la via alle 8.40 metri. La via alle 8.40 metri il percorso con partenza alle fonti edifici 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 edifici.